Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianconi Romain e buona domenica a tutti quanti. Allora, ieri l'avevo quasi annunciato, stamattina è arrivata l'ufficialità, Caio Giorgio è un nuovo giocatore della Juventus. Arriva alla Juventus a titolo definitivo, la Juventus verserà nelle casse del Santos circa 3 milioni di euro. Giocatore brasiliano e già in settimana arriverà a Torino dove sosterrà le ministri mediche e metterà la firma sul contratto che collegherà alla Juventus fino al 2026. Giocatore di cui si parla molto bene, chi l'ha visto addirittura lo paragona, dice che sarà il nuovo Neymar. Quindi vedremo un po', il ragazzo è molto giovane, arriverà la Juventus e sarà la quarta punta a disposizione di Max Allegri. Bene, sono molto contento, perché comunque io ho qualche video su YouTube di questo giocatore, l'ho visto, e devo dire mi ha fatto una bellissima impressione. Poi, ripeto, il campionato brasiliano non è quello italiano e quindi vedremo un po'. Però sul giocatore c'erano anche altre squadre, c'era il Bayern Monaco, c'era il Milan, c'era il Napoli, c'era il Benfica. E Cherubini è stato bravo a strapparlo alla concorrenza. Quindi vedremo un po', poi nei prossimi giorni, che Allegri lo potrà allenare, ne stavremo di più. Caio Giorgio si va anche ad unire all'altro acquisto che diventerà ufficiale tra qualche giorno, che è Manu e Locatelli. Perché io lo ripeto, Manu e Locatelli arriverà alla Juventus, è inutile che il Carnevali fa lo Gnorri. Eh no, ma l'offerta non è buona, eh. Locatelli è un giocatore già della Juventus. E attenzione sempre anche al centrocampo, che secondo me al centrocampo qualcosa si muoverà ancora. Io resto convinto che Aaron Ramsey non farà parte del progetto della Juve del prossimo anno e quindi un altro centrocampista al suo posto arriverà. Vedremo poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quello che accadrà. Ma intanto ribadiamo, Caio Giorgio è un nuovo giocatore della Juventus. In settimana arriverà a Torino per le visite mediche, firma e inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni. Tra l'altro domani, lunedì 2 giugno, 2 agosto scusate, rientreranno anche tutti i nazionali italiani. Quindi Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi. Quindi da domani Allegri finalmente potrà lavorare con la squadra al completo. Ricordiamo che tra 20 giorni si parte, tra 20 giorni, 22 agosto c'è la prima di campionato, quindi c'è poco tempo, bisogna lavorare, testa bassa, perché tra 20 giorni si inza fa sul serio. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Oggi pomeriggio, verso le 2, vado a fare il vaccino. Sono tranquillo, quindi facciamo sto vaccino. E niente ragazzi, vi abbraccio e fino alla fine, forza Juventus. Ciao!